Mai come oggi servono l'aiuto e il sostegno di tutti, Fano risponde presente e tende la mano al popolo ucraino che ha bisogno di noi. Sono le parole del sindaco Massimo Seri che questa mattina ha partecipato anche ad una riunione convocata dalla prefettura sulle azioni da intraprendere per veicolare gli aiuti. Intanto da oggi l'ufficio di promozione sociale del comune potrà fornire le prime informazioni a tutti coloro che vorranno sostenere gli sfollati, svolgendo il ruolo di cerniera affinché vengano diffuse notizie chiare e puntuali. Oltre ovviamente a fare tutte quelle iniziative di condanna di questa violenza inspiegabile, ingiustificabile nei momenti in cui stiamo vivendo, ci stiamo anche adoperando come giusto che sia perché in questi momenti bisogna essere solidali e vicini a chi soffre, chi vive la guerra, che va condannata. E proprio ieri abbiamo costituito una cabina di regia dove ci sono tutti i soggetti che nelle varie formule possono essere operativi. Abbiamo affrontato alcune questioni, a cominciare adesso dalle prime azioni che sono quelle del ricongimento. Qui abbiamo una bella comunità di persone che vengono dall'Ucraina e che lavorano qua. e quindi alcuni stanno venendo, alcuni nipoti, figli. Abbiamo affrontato la questione della raccolta degli aiuti per quello che riguarda medicinali. Ad oggi ci fermiamo su quello perché per quello che riguarda gli alimenti, gli indumenti aspettiamo indicazioni. Perché è una cosa importante, dobbiamo evitare che ci siano tante iniziative che poi si disperdono e magari non si raccolgono neanche le cose che servono. Per gli aiuti economici, ha ricordato Seri, ci sono i canali nazionali come quelli della Caritas, della Croce Rossa e dell'Unicef mediante versamenti sui conti correnti dedicati o attraverso numero solidale 45525 mentre per i ricongiungimenti con i familiari che si trovano nel nostro territorio ci sono alcuni passi precisi da seguire tramite la Croce Rossa e il commissariato di Fano. Non dimentichiamo che l'Italia nell'organizzazione dovrebbe accogliere il 13% dei profughi della guerra di Ucraina. Si tiene conto che ci farà una previsione di alcuni milioni di profughi, quindi fate voi il calcolo, anche Fano dovrà fare la sua parte. È in contatto anche con Don Vladimir? Esatto, perché qui c'è una comunità presente nella nostra città, Don Vladimir è anche referente della Caritas Ucraina in Italia quindi anche attraverso loro noi faremo avere del materiale, però cerchiamo sempre di farlo in base alle richieste e alle esigenze vere per non disperdere energie, per non portare cose che poi non vengono utilizzate. Grazie